prendiamo una banana meglio se matura la mia non lo era molto quindi ho fatto un po di fatica perché bisogna andare a schiacciarla con la forchetta una volta che l'abbiamo schiacciata molto bene è diventato tipo una purea diciamo una pappetta andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti prima quelli liquidi quindi l'olio il latte potete scegliere se vaccino o no l'albume e andiamo a mischiare con una frusta una volta che abbiamo mischiato bene possiamo finalmente aggiungere la nostra farina ovviamente usate la 00 perché non ho problemi col glutine ma potete scegliere anche di usare una farina di riso bicarbonato più limone se vogliamo farla lievitare ovviamente non possiamo usare il lievito chimico perché siamo allertici al nickel e andiamo ancora a mischiare con la nostra bella frusta vado poi a scegliere uno stampo piccolo ho scelto uno stampo da 18 più un altro piccolino oppure potete farne uno da 22 o 24 centimetri andiamo poi a metterlo nella grata del nostro della friggitrice ad aria e dopo 30 minuti ecco qui il risultato una tortina molto semplice molto delicata perfetta per le nostre colazioni iscriviti al nostro canale